Domani mattina a conclusione della settimana europea della mobilità, in programma la manifestazione sportiva Bici Roma, la pedalata più bella del mondo, con partenza e ritorno a Piazza del Popolo. Saranno possibili temporanee chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per 33 linee di bus. Sempre domani, sempre a conclusione della settimana europea della mobilità, torna la Pia Day, l'evento che da nove anni celebra la storia e la bellezza della regina Viarum. Sarà una giornata ricca di appuntamenti a piedi e in bici come l'Archeo Grab. Alle 11.30 è previsto poi il Campione e la Zanzara, uno spettacolo itinerante con attori e pubblico in bicicletta, con ritrovo e partenza da Porta San Sebastiano. Grazie a tutti.